Giornata funesta, quest'oggi a San Dona di Piave, per il ritrovamento di un corpo senza vita sulle acque del fiume. Tutto è cominciato alle 11 di questa mattina, quando al comando dei Carabinieri è giunta una segnalazione di alcuni cittadini che riferivano di aver visto galleggiare sulle acque nei pressi del Ponte della Vittoria qualcosa di strano avente le sembianze di un manichino. Allertate quindi anche le squadre dei Vigili del Fuoco, è subito cominciata la preillustrazione dell'area segnalata, con imbarcazioni fluviali e il supporto di un elicottero. Solo dopo l'ora di pranzo, il pattugliamento dell'area ha permesso il ritrovamento del corpo trasportato dalla corrente lungo la riva sinistra del Piave. Il corpo identificato è quello di Luisa Vittoria Boni, 55enne di San Dona di Piave, sul quale, ad un primo rilievo, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Solo dopo il referto autoptico, tuttavia, si potrà far luce sulla reale causa di morte della donna.